Il Moicano. Ecco, vai. Dopo cinque anni di attesa Biagio Antonacci torna con un nuovo disco, l'inizio. Ma l'inizio di che cosa? L'inizio, l'inizio della, ma che bello, sarebbe l'inizio di una rivoluzione interiore, no? L'inizio di qualcosa che puoi fare di diverso da quello che hai sempre fatto. L'inizio è lo stimolo, la vita, l'aggressione nei confronti dell'incompiuto, andare a cercare quello che tu desideri, che non hai mai avuto coraggio di fare. Uscire, l'inizio è uscire dallo schema. Ti è mai successo di conoscere persone che vogliono cambiare vita e che non sono incentivate, ma sono criticate? Sono le persone che scegliono la libertà, le persone che vogliono vivere all'insegna di ideali propri. Però qualcuno dice sempre, ma cosa fai? Ma chi te lo fa fare? Ma stai nel tuo, non perdere il lavoro fisso, non lasciare la tua città. Ecco, tutti coloro che vogliono fare qualcosa di diverso sono sempre criticati. Ecco, io vorrei iniziare smettendo di sentire voci che non ti fanno essere quello che sei. Cambiare per restare vivi, quindi? Cambiare per restare, per esserci, perché se non cambi non mori. Quindi per restare vivi, certo. E' anche dedicato a tuo figlio Carlo, dicendo che chi si ferma è perduto. Eh sì, è vero. Io dico già a lui che ancora è piccolino, ma mi auguro che negli anni che verranno, quando io non ci sarò più, magari sarà un uomo più libero di me, un uomo che magari farà delle scelte senza guardare troppo i gusti degli altri. Perché poi alla fine io ho fatto quello che volevo. Però ho fatto fatica, non l'ho mai fatto con leggerezza. A lui auguro la leggerezza, a lui auguro che l'inizio sia un dono, fosse la parte più bella dell'eredità mia da potergli lasciare. Ecco, ma alludi anche a qualche rimpianto, a qualche rammarico? Ma no, ma guarda, fortunatamente nella vita ho avuto grandi soddisfazioni. Certo, tutto quello che ho ottenuto l'ho ottenuto mai con leggerezza, no? Forse non l'avrei ottenuto, non lo so, però mi piacerebbe pensare che tante volte potevo evitare la pesantezza che il regime sociale dove noi viviamo ci impone. Ecco, forse un rimpianto lo trovi nel brano evoco, dove dici che non hai mai detto a tuo padre che ti voglio bene. È vero, non l'ho mai detto a mio padre che ti voglio bene, è una cosa che mi porto dentro e mi porterò dentro tutta la vita. I miei figli con me lo fanno spesso, mi dicono anche troppe volte che ti voglio bene, quindi non vorrei che venisse inflazionato. Quindi sono i due estremi, no? Però alla fine voglio educare al comunicare l'affetto senza vergogna. Ecco, questo album a chi è dedicato? Se è dedicato a qualcuno? Beh, sicuramente è dedicato al cambiamento, è dedicato al coraggio. In questo caso Carlo, mio figlio, l'ultimo figlio, spero che abbia tutto quello che vi sto dicendo attraverso queste canzoni. Tu vieni dalla periferia milanese, come tanti giovani di ultima generazione vengono dalle periferie. Cosa ne pensi? Beh, la periferia è una scuola di vita incredibile perché c'era poco bello, però c'erano tanti sogni. E secondo me dove si sogna tanto si arriva dove probabilmente chi guarda la vita in maniera pratica non arriverebbe mai. Cioè il sogno è l'illusione, l'uomo viaggia cercando, illudendosi che ci sia la terra promessa. E' sempre stato così. E quindi noi viaggiamo per scoprire nuovi territori. Purtroppo facciamo anche le guerre per occupare altri territori. Abbiamo perso il senso dell'umanità noi oggi esseri umani. Non abbiamo imparato niente dalla natura. La natura ha un ciclo meraviglioso naturale. Non esiste mai la morte o la fine o l'inizio. Esiste un ciclo di situazioni che si ripercorrono e si ripercuotono sempre come concetto più orientale che occidentale. Ma perché c'è tanta rabbia nei giovani? Perché non si sentono capiti i giovani. Perché i genitori parlano poco con loro. Perché i genitori non li considerano come potenziali uomini liberi. Ma li considerano come potenziali uomini simili a loro stessi. L'errore più grande che può fare un padre è crescere un figlio cercando di renderlo uguale a lui. Direi che basta. Grazie. Eh lo so, ci devo dire mille...